stanno fightando sul tetto no no c'è qualcuno no 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 stia cominciamo a hai aperto il porre cadute ma che palle neanche a me che cagata disumana non è passato qua ma porco due con la c4 dio caro con lancia la con lancia patate fatto no no ma di sicuro c'è ancora stanno fightando mi fa stato questo tutto sotto sotto nascosto nell'erba nei fiori lato adesso lato a destra cimitero ce ne sta un altro fatto pure questo mi ha fatto uno con l'rpg da sopra sotto dall'altro no vabbè come cazzo ha fatto questo l'avete finito no lo sento sopra di me ma vabbè raga ma dal tetto ma come cazzo fa che cazzo è no vabbè voglio vederla questa qua ci stanno piastre muni quello che volete eccolo e lassù chiamalo merda and vai ti mani andato bravo ando luca c'era taglia frank andiamo andiamo un attimo da lui frank vieni con me qua dove stanno qua mi hanno messo una terra lo vedo un altro a terra bravo a terra no non me l'hai non me l'hai pregato per l'attento che c'è gente me l'hanno confermato uno stanno sotto ai garage a destra raga tanto devono scendere in due sono in due ma si raga ha arrestato eh raga vabbè oh ma che cazzo è io crack e tu distruggi un cazzo io a proposito zero non ho crack ha dice oh dietro 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 lo d'ho eh da boh da qua non lo so torno c'è un po' di roba ecco sei tu quello che era morto lì visto 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 l'ho visto la sala dove binga binga dove ho fatto il satellite sono io ho preso adesso non c'era nessuno però fai attenzione vieni dai io so qua io non ho capito dove è no no è qui è qui è qui è qui è qui è qui dietro eh ce ne sta uno all'azzurro non posso venire fatto cute ce ne sono altri Se ci andassimo a prendere Raga farate Bastante proprio Non era niente senso Vi saliamo a train Occhio Dove? 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 Opri Cracka una a terra Bravo Una morta Sono inglesi Stanno ancora sul train Erano almeno due Penso Ok andiamo Si stanno fightando Stanno fightando Oh 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 C'è un'altra Andiamo a farlo Ah è campato qua dentro Non è uno solo Uno l'ho fatto Uno l'ho fatto Due fatti No vabbè raga ma che cazzo è Vabbè raga ma vaffanculo Fatto uno Fatti Qua ti ho eliminata Riuscite? Raga conviene che ci muoviamo adesso Si O per fare questi O per Potremmo anche Eh si Il problema è che Ci ritroveremo sulla sinistra Allora Io penso meglio questi qua Pink blue Perché dall'altro lato Sono due team comunque Se non si sono rotti Le corno Cosa facciamo Pusciamo il team blue Il queen Vediamo Proviamo dai Vai perché anche dopo abbiamo Zona aperta Sia noi che l'ho C'è un'altra cassa piastre Qua ci sono Oh oh C'è uno che C'è uno sniper qua C'è una maschera Audio audio Sia che sono ai hangar Sì All'hangar c'è la gente Fatto uno Era solo Però gli sparavano Eccoli qua 47 metri Sì 47 metri Non so dove Numeri Una terra Ma raga Ce n'è Ce n'è uno qua Sinistra Audio audio C'è uno qua Mi affatto Eh C'è un altro team Fuori qua raga E anche Sono molto Per il gas Ah tutti Gulag raga Gulag Ragazzi Aspetta Ma ora esce Lo Out Andiamo Eh per forza Ma è caduto Sulla Sulla Casa Buono E ci sta uno Che è morto Pura Muore Bastardo Su chiami il cazzo Dall'antenna Dall'antenna Affanculo Tono Non sono safe Però se vuoi Ci vuoi provare Sono safe Non sono safe Eh Niente Non ce la faccio Questo c'è È merda Col cecchino Sulla Da che lato È proprio dritto Di fronte A te Sopra Che prendi Giorgendo qua Giorgendo qua Sì Sì Maggi Sì Però ma che Se esco Questo Dammi piastere Dammi piastere Dammi piastere E chi cazzo mi vedo qua Nouvelle quote Deuxième putere Deuxième putere Le gaz est a proximité a porco 2 sul tetto ma chi è? guarda questo qua c'è mai un uomo guarda questo ce lo fa vedere no è camperato qua